Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calvone? Scusi, posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantoci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Cotionkin è una cagata pazzesca! Allora!